Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, nuova settimana e quindi nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere. Questa settimana parliamo di un alimento molto apprezzato soprattutto dagli amanti della cucina a base di pesce, stiamo parlando degli scampi. In effetti gli scampi sono dei crostacei simili ai gamberi, si caratterizzano per la presenza di due chele particolarmente sviluppate nella parte anteriore del corpo per un colore tra il rosa e l'arancione sul dorso, bianco sul ventre. Il suo corpo che può avere una lunghezza media sui 20 cm lo possiamo suddividere in due parti principali, una parte cefalica che è quella appunto della testa a cui sono attaccate le due chele e la parte invece addominale che termina invece con la classica coda a ventaglio. Così come altri crostacei, così come i gamberi contengono nel carapace una sostanza un po' di saccaride indigeribile che si chiama chitina che in soluzioni basiche è trasformato nel chitosano. Qualcosa che forse avrete già sentito perché è presente in molti integratori come chelante dei grassi e quindi anche come qualcosa che aiuta a dimagrire. Anche se dobbiamo dire che in effetti sono necessari ulteriori studio più approfonditi per confermare questa tesi. Gli scampi vivono prevalentemente nel mare atlantico, sono disponibili in commercio durante tutto l'anno anche se la loro pesca avviene soprattutto tra la primavera e l'estate. Si nutrono di piccoli invertebrati e di piccoli pesci che vanno a catturare proprio con le chele. Ma vediamone i valori nutrizionali. 100 grammi apportano all'incirca 200 calorie. Contengono sali minerali, soprattutto calcio, fosforo, sodio, feglo, potassio e vitamine, soprattutto vitamine del gruppo B. Un alimento quindi con un numero di calorie non particolarmente eccessivo, sicuramente ricco di acqua, in cui le calorie dipendono soprattutto dalle proteine. Queste proteine che in effetti sono la qualità principale degli scampi perché sono proteine ad elevato valore biologico, quindi proteine che contengono amminoacidi essenziali, cioè quegli amminoacidi che l'organismo non può produrre. Questo ne fanno un alimento sicuramente nutriente e soprattutto utile per sostenere l'apparato muscolare. Gli scampi quindi sono qualcosa che possiamo inserire nella nostra alimentazione non frequentemente e tenendo presente soprattutto alcune controindicazioni importanti. La prima è sicuramente il contenuto di colesterolo. Infatti gli scampi contengono per 100 grammi all'incirca 152 milligrammi di colesterolo. Quindi sono sicuramente sconsigliati, controindicate in chi soffre di ipercolesterolemia, quindi di patologie cardiovascolari. E la seconda controindicazione è il sodio. Infatti contengono anche una buona concentrazione di sodio, quindi che li sconsiglia a chi soffre di pressione alta, quindi di ipertensione. Per chiudere il quadro delle controindicazioni dobbiamo ricordare anche le frequenti reazioni allergiche a questo alimento. Gli scampi come detto li possiamo trovare in commercio durante tutto l'anno freschi o congelati. Ecco, quando li acquistiamo freschi è bene accertarci che lo siano veramente. Quindi come fare? Prima di tutto sentirne l'odore, che deve essere un odore delicato di mare, non ammoniacale. Il corpo deve presentarsi ben compatto e anche con un nero brillante molto evidente degli occhi. In cucina poi si prestano a tante preparazioni, andiamo dagli aperitivi a condimenti del primo piatto o semplicemente come secondo piatto. È importante però sapere che una volta puliti in effetti la parte edibile, cioè la parte che andiamo effettivamente a consumare, si riduce molto. Quindi possiamo, in caso lo utilizziamo come secondo piatto, abbinarli ad altre pietanze a base di pesce oppure abbinarlo a una fonte di carboidrati e di fibre magari per preparare un ottimo ed equilibrato piatto unico. Bene, mi fermo qui, vi ricordo che potete approfondire altri aspetti degli scampi leggendo l'articolo che troverete sul sito di Cilento Channel, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere a nutrizionericci, chiocciolavirigilio.it per suggerire argomenti o per commentare i diversi appuntamenti della nostra rubrica che tornerà come sempre la prossima settimana, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!